Un nuovo oratorio per il centro storico della città di Agropoli. L'inaugurazione si terrà sabato 23 febbraio alle ore 16 e 15, a seguire è prevista la celebrazione della Santa Missa alle ore 17 e 30 e infine alle ore 18 e 15 e in programma un momento conviviale. Si tratta di una ristrutturazione di quelli che erano i locali adiacenti alla chiesa della Madonna di Costantinopoli che da sempre hanno svolto una funzione di tipo pastorale e sociale fin dalla loro edificazione. Grazie all'accesso a dei fondi regionali siamo riusciti a ripristinare quegli ambienti, a ridarli nuova vita, a renderli anche più funzionali attraverso la creazione di una rampa e anche di un bagno per portatori di handicap, quindi per rendere accessibili a tutti. E nasce l'idea dall'esigenza in fondo anche per il centro storico di un luogo di aggregazione al passo coi tempi. A passo coi tempi intendiamo dire c'è anche attrezzato, infatti per chi verrà a visitarci potrà verificare che i locali avranno diverse funzioni, ma fra queste la fa da padrone la tecnologia, in modo particolare i pc, una lavagna lim, videoproiettori, per rendere da un lato anche nella catechesi il messaggio evangelico, in modo comunicarlo in modo più adatto alle nuove generazioni e di questi giorni la presentazione anche del videocatechismo della chiesa cattolica. Quindi ci mettiamo in linea con la chiesa nazionale, ma anche per ricerca, per studio, per avere un luogo dove ritrovarsi e occasioni di riflessione e di crescita. Quindi ci saranno diverse proposte, diverse attività, tra queste mi piace ricordarne una, che è la creazione di una biblioteca. Una biblioteca che abbiamo voluto intitolare a Don Cesare Caradonna, che per 35 anni è stato parroco della chiesa madre. E il fondo, diciamo, più grande dei libri proviene proprio dai lasciti di Don Cesare, poi contiamo di arricchirla nel tempo. E alla biblioteca cartacea si affiancherà anche una biblioteca digitale, puntando in modo particolare su testi che contengono notizie sulla storia e sul territorio di Agropoli e del Cilento. Perché il Cilento storico è il custode della memoria storica di Agropoli. Per questo una delle funzioni dell'oratorio sarà anche questa, sarà quella di aiutare sempre di più giovani, ragazzi, ad avere contatto con la ricchezza della nostra memoria storica. Avete già stilato un programma invece delle attività che si svolgeranno al suo interno? Sì, ci sono alcune iniziative, alcuni progetti che già stanno partendo, come appunto questo della biblioteca, che viene curata proprio dai ragazzi del corso di Cresi, ma sono loro, insieme con il loro catechista, abito ad essere i protagonisti della catalogazione della biblioteca. A breve partiremo con il progetto delle sale aperte, cioè metteremo a disposizione questi luoghi per tutti quelli che non hanno la possibilità di avere un luogo tranquillo e silenzioso dove poter studiare. E qual è il luogo migliore di quei locali a strapiombo sul mare. Ovviamente questo non dovrebbe essere poi causa di distrazione. E ci saranno poi, nel corso di questo anno, saranno attivate, a distanza di alcuni mesi, altri progetti di cui informeremo attraverso delle brochure, attraverso i canali tradizionali, ma anche quelli attraverso i social. Don Carlo, possiamo terminare l'intervista con l'invito quindi a tutta la popolazione di Agropoli a presenziare questo importante evento per il Centro Storico? Sì, un invito a che rivolgo a tutti, chiaramente in modo principale agli amici del Centro Storico. Però prima di terminare vorrei anche ringraziare chi ci ha supportato, perché il progetto nasce non solo dalla buona volontà della parrocchia, quindi dei collaboratori della parrocchia, ma anche dall'amministrazione comunale e dall'aiuto che ci è stato dato anche dalla GESCI e dalla Proloco, con cui abbiamo fatto proprio una serie di iniziative che continueremo, mi auguro, a fare.